Misano, circuito Marco Simoncelli, Santa Monica, comunque lo si chiami, questo tracciato occupa un posto d'onore nel cuore di tutti gli appassionati dei motori di ogni nazione. Ma chiaramente l'incontro a Romagnola lo rende il tempio locale del motore. Il carro, la quercia, il tramonto, qui e nessun altro posto vogliono dire tutt'altro rispetto a ciò che significa in italiano. Il circuito fu disegnato e realizzato con l'appoggio niente meno che di Enzo Ferrari e inaugurato nel 1972. Molti ricorderanno l'impresa di Rendi Mamola che riuscì a domare miracolosamente la sua onda in bizarrita. La prima gara del Mondiale Motociclistico su questo asfalto risale al 1981 e vide trionfare rispettivamente Riccardo Tormo nella classe 50, Lori Seregiani nella 125 e Marco Lucchinelli in 500. Giusto una piccola infilata di nomi leggendari. Lo scorso anno ha vinto Brad Binder. Quest'anno chi iscriverà un'altra pagina di Gloria? Gas!